Bentrovati e bentrovate da Andrea Cartotto e buon inizio dell'anno scolastico con gli alunni. Quale miglior modo di porgervi il mio saluto ed il mio augurio se non con un nuovo videocorso che mostra una novità formidabile introdotta nella applicazione tutta italiana PanQuiz, ideata e sviluppata dall'amico Paolo Mugnaini, di cui ho il piacere e il privilegio di curare la videoformazione ufficiale qui sul mio canale YouTube. Avete una intera rubrica playlist che accompagna anche chi si trovi alle prime armi nell'utilizzo, proprio di PanQuiz. Ve lo ricordo, una volta effettuato l'accesso, come ho fatto ora io, i miei questionari rappresentano in realtà le attività più di verifica. Pensiamo per analogia, sempre per aiutare chi ha le prime esperienze, ai moduli di Google, ma qui siamo ad un livello superiore e ve lo dico a ragion veduta. Mentre i miei PanQuiz, sempre per analogia e per aiutare chi ha le prime armi, abbiamo un'attività interattiva che ricorda il buon vecchio, possiamo dire, Kaut, perché in realtà PanQuiz è un applicativo pensato e calibrato per il target scolastico italiano. È inclusivo, come potete vedere anche le icone, i menu, sono spaziati ed è dunque un eccellente strumento anche per il sostegno. Ed allora dov'è la grande novità di PanQuiz introdotta da Paolo? Beh, cliccando sui miei PanQuiz ho il cruscotto delle mie varie attività. Noterete una mia attività proposta indistintamente ad alunni, famiglie, persino ai colleghi e alle colleghe, sull'utilizzo di internet e dei social media, e lo dico di proposito così, alla latina. A questo punto clicco su gioca, perché sono curiosissimo, e guardate, opzioni aggiuntive, un clic, ecco i due interruttori, i due cursori da spostare ed accendere. Così, sul dispositivo mobile, ma anche un notebook, ma anche un Chromebook, sui dispositivi dei partecipanti, da oggi sarà possibile vedere le domande formulate e vedere le risposte abbinati ai colori delle risposte. Se fate mente locale, chiudete gli occhi con me, quando svolgiamo questa attività, tendenzialmente noi agiamo con i nostri dispositivi come se fossero telecomandi. Ma in questo frangente ho anche una risposta testuale utile, esplicativa, e che non obbliga a stare, ad esempio, pensando alla classe in presenza, con il collo, insomma, ripiegato verso la Limmol Monitor Interattivo. Siccome sono curiosissimo, clicco su inizia a giocare, e si parla di gioco perché è l'apprendimento ludico, la cosiddetta gamification, che molti di voi che mi seguono ben conoscono, clicco su avvia, postazione docente, e ho già preso il mio bel dispositivo mobile, in questo caso smartphone Android, con l'app di PanQuiz, vado a toccare l'icona svolgi, ed ecco qui, a favore di camera, dove poter inserire il PIN. Pertanto, 300242, tocco svolgi, inserisco il mio nome, in questo caso Andrea C., tocco inizia, così da risultare nel cruscotto del docente, vado a cliccare inizia sulla postazione docente, clicco su sì, inizia, e guardate cosa accadrà, 3, 2, 1, via. Ecco qui, sempre a favore di camera, voilà, spostiamoci bene. Il quesito è sul mio dispositivo, e anche le risposte sono abbinate al colore, le vedo, una funzionalità indubbiamente che favorisce l'apprendimento e stuzzica ancora di più. È una delle varie funzionalità che Paolo implementa gradatamente, costantemente, per rendere lo strumento, come già è, lo strumento irrinunciabile in classe. Ed allora, a questo punto, provatelo e provate la nuova funzione, per i colleghi che già se ne servono, vi do sindora appuntamento al prossimo videocorso, sicuramente sulle novità di PanQuiz, ma anche, di già, con i miei prossimi videocorsi che vi accompagneranno, come sempre, anche quest'anno scolastico trovate un archivio di oltre 200 video qui sul mio canale, e se mi venite a trovare, con contenuti più brevi, ci vediamo anche su TikTok. E allora, ancora buon inizio dell'anno scolastico con gli alunni, a tutti e a tutte voi, da Andrea Cartotto.